ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video nel video di oggi ci lasciamo un attimo alle spalle è quello che è l'argomento dei capelli e ci concentriamo invece più sull'argomento della depilazione io vorrei parlarvi vorrei farvi conoscere una cosa che ormai faccio da un bel po di tempo che in realtà ho iniziato a fare mossa dalla curiosità e dall'intraprendenza di provare una cosa sulla quale non avevo chissà quante informazioni o testimonianze ovvero la depilazione del viso con il rasoio e qui voi storcerete un pochettino il naso che la stessa cosa che ho fatto io all'inizio ovviamente mi sono informata prima di passare a questa fase però non avevo delle testimonianze di persone che conosco che magari facessero nel ricorso al rasoio per depilare il viso ecco mossa un po dalle poche informazioni che avevo racimolato grazie al web mossa un po dalla dalla mia curiosità perché io sono una persona molto molto curiosa ecco io prima devo farle le cose prima di poterci credere e ho detto vabbè proviamo male che va mi trasformerò in d'alema pure in mago berlino mi sono praticamente buttata in questa nuova avventura e ho iniziato a depilarmi con il rasoio quello diciamo usa e getta ecco questa è stata una cosa che non avrei dovuto fare nel senso che ovviamente poi dopo ho scoperto che esistono dei rasoi fatti al posta fatti apposta per il viso e che ovviamente e sono concepiti proprio per questo scopo e sono praticamente questi rasoietti qui sono dei rasoi hanno il cappuccetto vediamo se riesco a mettere a fuoco ok sono praticamente questi rasoi che hanno questa lama sono fatti in questo modo ovviamente è una lama assolutamente sicura non taglia assolutamente cioè voi ci potete passare il dito in questa maniera non taglia però elimina la peluria del viso i baffetti e tutti i peletti che ovviamente stanno sul viso quindi assolutamente non è pericolosa e questo tipo di rasoio ho cominciato a utilizzarlo è quasi subito in realtà nel senso ho fatto un primo step con i rasoi femminili quelli use getta e poi però ho visto che effettivamente c'era uno strumento fatto apposta per questo scopo e ho cominciato a depilarmi con questo perché il primo motivo è stato che i precedenti metodi di depilazione che utilizzavo rovinavano la pelle del viso io inizialmente depilavo soltanto la zona del prolabio quindi dei baffetti prima facevo la ceretta sia con l'estetista sia poi a casa però con sia una persona ecco che ha studiato per fare questo mestiere sia da autodidatta vedevo che mi si rovinava la pelle infatti io ancora dei segni rossi delle chiazze rosse che mi sono venute con l'utilizzo ecco che facevo appunto della della cera e che anche ovviamente i continui strappi perché la pelle comunque è sottoposta a una sorta di shock in secondo luogo visto che accusavo del fastidio e delle problematiche proprio legate al bruciore all'irritazione alla comparsa di macchie rosse sono passata alla crema depilatoria per il viso che ha fatto più danni della ceretta per quanto io abbia utilizzato una crema depilatoria perfettamente costruita per lo scopo ha peggiorato la situazione io sono passata al rasoio sia per i baffetti sia per il viso perché poi il viso io non lo facevo prima io non ho mai depilato il viso in vita mia l'ho depilato poi una volta che sono passata al rasoio perché il mio viso era molto grigio a causa della dei pitch air si chiamano proprio così la questa questa peluria che abbiamo tutte noi sul viso che forma una sorta di di alone molto chiaro il problema che se ce li hai biondi hai una sorta di pelurietta bionda va bene se hai una pelurietta scura perché io comunque sono nera di capelli e nera di tutto andava ad ingrigirmi il viso e mi dava molto fastidio così ho cominciato a toglierli e devo dire la verità non sono più tornata indietro e da quel giorno io mi depilo semplicemente con il rasoio ovviamente un rasoio fatto apposta per il viso inumidisco il viso lo detergo bene metto una crema che può essere anche il detergente per il viso ad esempio io a volte utilizzo la farina di ceci oppure a volte metto una crema o anche un gel tipo il gel di semi di lino ecco qualcosa che faccia scorrere la lama e poi lo passo in questo modo a tratti in questo verso e vado ad eliminare praticamente tutta la pelurietta lo stesso modo pulisco appunto le sopracciglia la parte centrale e i baffetti e nel giro di due minuti io sono perfetta non mi capita mai di dover aspettare la ricrescita perché appena esce un pochino di pelurietta e posso andare lì e posso andare a sistemare tutto e indolore vi stupirete ma non crescono i peli più folti non crescono i peli più doppi non crescono i peli di niente anzi la mia peluria è drasticamente diminuita non so per quale stregoneria non so perché probabilmente una cosa mia personale ho visto una minore crescita dei dei peli del viso allora quello che diciamo fa storcere il naso alla maggior parte di voi e che voi penserete che il pelo cresce più duro più grosso più spesso più nero e piuttosto assolutamente no il pelo è una struttura filiforme che ha una forma a goccia quindi ha praticamente il bulbo e poi a questo stelo il bulbo ovviamente alla parte interna e lo stelo cresce in lunghezza e va assottigliandosi quindi a proprio questa forma di gocce finisce con una punta ovviamente se voglio andate a strappare con il metodo della ceretta il pelo viene via interamente quindi poi andrà a formarsi nuovamente nello stesso modo quindi andrà a ricrearsi nuovamente con questa forma a goccia il pelo che ne spunterà avrà nuovamente la punta appuntita quindi è normale che quando voi andate ad estirpare il pelo con la ceretta lui si ricrei nello stesso identico modo perché giustamente andrà a nascere nuovamente il pelo nuovo che poi ovviamente si forma ecco i miei vicini al solito e mentre per quanto riguarda appunto la depilazione fatta con il rasoio ecco il rasoio ormai è un metodo che io ho adottato per tutto il corpo perché io penso una cosa già la vita è abbasta già la vita è abbastanza seccante già abbastanza traumatizzante se mi devo pure traumatizzare con la ceretta noi ne veniamo più a capo oddio sto per starnutire i vicini mi fanno allergia ai vicini sono sicuramente i vicini già che io avevo ormai utilizzato il rasoio per depilare il corpo detto proviamo visto che ne esiste una posta per il viso e quindi vi stavo dicendo che non assolutamente il pelo non ricresce piuttosto più duro più assolutamente semplicemente la forma che ovviamente viene creata di questo pelo che resta esistente quindi voi non è che lo andate ad estirpare lui rinasce nuovamente come è in modo originario lo stesso pelo resta e viene tranciata la punta quindi quando lui ricrescerà non ricrescerà con la punta puntita ma ricrescerà con una punta tronca e giustamente questo darà l'illusione che il pelo è più grosso non è che se tu lo tagli il pelo cresce più grosso secondo questo principio allora tutte le persone che non hanno i capelli se cominciassero a radersi la testa ogni giorno i pochi capelli che crescono devono crescere viene di più devono crescerli più folti devono crescere ci sarebbe una cura contro le calvizie praticamente assolutamente no è soltanto un'illusione ottica ovvero lo stesso pelo allunga quindi non è che cresce nuovamente allunga seguendo la forma che gli è stata data attraverso il taglio posso dirvi che ormai è da più di un anno e mezzo penso due annetti ormai che utilizzo questo metodo e devo dire la verità io in cinque secondi sono pronta sono sempre pulita zero rossori zero fastidi irritazioni semplicemente appena finito due goccine di olio di mandorle che un olio molto lenitivo aspetto un pochettino e se sono a casa rimango così ovviamente non metto una quantità di olio così abbondante da ungere la pelle ma due tre goccine di olio per andare un po allenire la pelle come faccio anche per il resto del corpo in realtà e poi semplicemente lascio assorbire l'olio è tutto resta lì chiaramente la cosa brutta è che io il viso lo depilo ecco una volta a settimana in realtà perché non crescono così velocemente non è che ogni due giorni devo stare a depilarmi assolutamente una volta a settimana di solito nel weekend faccio un ripassino non posso che consigliarvi almeno di tentare questo metodo potete tornare anche indietro se non vi trovate perché io c'è stato un periodo in cui ho avuto degli esami universitari poi con questo lockdown non sono uscita e tra l'impegno degli esami che ovviamente mettono in secondo piano qualsiasi altra qualsiasi altro impegno e mettono in secondo piano anche la decenza umana chi studia all'università sa di cosa parlano i studenti quando siamo in sessione non ci laviamo non mangiamo non dormiamo non respiriamo devo dire che ovviamente i peli mi sono cresciuti cioè la peluria ovviamente è ritornata quasi allo stato originario la peluria che è ricresciuta era tale e quale alla stessa peluria che io avevo proprio anche all'inizio quando non pensavo neanche la depilazione del viso anzi ne ho vista molto di meno infatti a volte mi capita che se non ci penso se magari dico vabbè tanto devo stare a casa inutile che mi faccio bella e tutto vi lascio così loro spuntano un pochettino non si vedono assolutamente la mia esperienza assolutamente positiva se volete provare comunque potete tranquillamente tornare indietro se ovviamente non volete depilare il viso se non è vostra abitudine io comunque vi consiglio di optare per questo tipo di depilazione con questo tipo di rasoio vi lascio anche il link di amazon sotto nell'info box perché io ho comprato una una box di questi qua mi pare che fossero 100 a 11 euro 12 euro se io mi depilo una volta a settimana no anche di più io mi depilo 45 volte con uno di questo quindi comunque vi dura un bel po vi consiglio magari di anche per i baffetti optare per questo metodo perché veramente io quello che purtroppo ho accusato che mi porta ancora dietro sono dei segni sulla pelle che sono stati causati dalla ceretta e dalla crema depilatoria purtroppo sono delle cose che non riuscirò mai ad eliminare infatti ho questa zona della pelle questa zona qui che io copro sempre con del fondotinto del correttore che è proprio arrossata e come se la pelle si fosse proprio ripetutamente irritandosi ormai è rimasta in questo modo praticamente e ho anche delle dei minuscoli capillari che sono venuti fuori in questa zona qui e che niente sono rimasti così invece devo dire la verità con il metodo del rasoio quindi ragazze niente volevo condividere la mia esperienza perché veramente positiva e magari qualche ragazza può anche non provare questo metodo semplicemente per paura ma vi assicuro che io mi trovo benissimo e penso che non tornerò mai indietro ovviamente se ci sono delle domande potete fare tranquillamente sotto nei commenti sarò molto felice di rispondervi sapete che io ci tengo sempre a rispondere ad ogni commento che dicevo da parte vostra e saluto i nuovi iscritti che si sono uniti al mondo di nero corvino io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video